Amici, siamo al Lido! Il Teatro Goldoni ci ha chiesto di sfatare alcuni luoghi comuni che riguardano la sua stagione teatrale come ad esempio che abbonandosi non si risparmi e che gli spettacoli finiscono sempre tardi Andiamo a sfatare! Lei sa che se fa l'abbonamento può risparmiare fino al 40% sul prezzo del biglietto? No! Ovviamente stiamo parlando dell'abbonamento al Teatro Goldoni Peggio che peggio Sai che se fai l'abbonamento risparmi fino al 40% sul prezzo dei biglietti? Lo sapevo L'abbonamento del Venezia o della CTV? L'abbonamento? E della navigazione? Nessun Lido del Teatro Goldoni? Ah, no! Quindi possiamo dire che lei non si fa l'abbonamento al Teatro Goldoni perché gli spettacoli finiscono sempre tardi Quello anche è vero! Sì? No! Ebbene sì, lo ammetto! Bene amici! Allora a tutti loro e a voi che ci state guardando noi diciamo Non è vero! Abbonandosi si risparmia? E il sabato c'è uno spettacolo alle 19 E quindi adesso che sa che esiste uno spettacolo al sabato alle 19 Farà l'abbonamento? Mi farò l'abbonamento al Teatro Goldoni Prometto che mi abbonerò al Teatro Goldoni Quindi visto che ci sono Carlo e Giorgio l'abbonamento me lo farò sicuramente Io lavoravo a parte perché ho sанти diventato all'eisero Grazie a tutti.